grazie a tutte e a tutti vedo tantissime donne questo mi sembra un bel segno tra l'altro qui con noi oltre a laura ci sono le due lauree oltre a laura c'è anche laura nofri di se non ora quando che rappresenta insomma il se non ora quando di torino e so che molte di voi siete qui quindi vorrei innanzitutto prima di presentarvi laura boldrini che io conosco e ho avuto l'onore e il piacere di conoscere per lavoro e già diversi anni fa alla camera dei deputati mi sembra giusto prima lasciare la parola per i saluti sia a laura nofri che a jacopo rosatelli l'assessore per le opportunità però laura e onofri a te la prima parola e poi grazie grazie anna e siamo qui grazie a tutte e tutti voi che siete siete venuti così numerosi so che non c'era più posto quindi come sempre quando c'è laura a torino ci sono le folle diciamo anche in questo periodo di pandemia il che non è importante inizio subito entro subito nel vivo perché io credo che questo libro che presentiamo stasera sia un libro necessario perché necessario perché una fotografia lucida anche se molto molto amara di quello che è il nostro paese a 360 gradi di quella che è la nostra società mette insieme e approfondisce capitolo dopo capitolo tutte le discriminazioni le disuguaglianze le disparità che appunto ancora oggi affliggono il nostro paese spaziando però anche in Europa e anche nel mondo e anche facendo una comparazione tra il nostro paese e gli altri paesi europei specialmente ma in tutto il mondo e chiedendosi ogni volta a ogni capitolo se può essere considerato normale nel 2022 vivere in un paese così maschilista e così sessista perché questo oggi è il paese in cui viviamo è un libro necessario sia per gli uomini che per le donne secondo me ogni donna dovrebbe regalarlo al proprio compagno al proprio partner ad un amico perché perché c'è molto bisogno di parlare di questi temi ma specialmente ce ne è bisogno di parlarne con gli uomini e vediamo anche stasera il pubblico quasi prettamente femminile tranne qualche uomo illuminato secondo me però la maggior parte del pubblico è formato da donne e invece questo è sbagliato questo non è normale non è normale che si tratti di temi così importanti per la nostra società così fondamentali non solo per le donne ma per la società tutta e che se ne parli solo tra donne quindi questo libro può essere uno strumento importante per le donne perché assumano una consapevolezza di quelli che sono i loro diritti perché vivendo in un paese in cui queste cose non sono normali anche tutte le donne continuano a pensare forse ma forse sarà normale così e quindi io credo che sia uno strumento importante per le donne ma anche per gli uomini un libro necessario perché scritto da una donna da una politica autenticamente femminista e che dichiara orgogliosamente di esserlo e anche questo non è normale perché purtroppo molto spesso ci confrontiamo con donne che quando sentono la parola femminismo storcono un po' il naso e oggi invece secondo me è più che mai necessario che il femminismo abbia un riconoscimento politico il femminismo è necessario serve per leggere la realtà per leggere le sue contraddizioni le trasformazioni la complessità della realtà di tutta la società e serve per capire per approfondire anche le nuove disuguaglianze per tenere insieme le battaglie di tutte le discriminazioni il lavoro il lavoro precario la violenza contro le donne gli stereotipi cioè tutto si tiene insieme e si approfondisce però con il femminismo e io credo che c'è bisogno appunto di femminismo anzi direi di femminismi perché non c'è un femminismo solo c'è un è importante riflettere sulle differenze che ci sono all'interno del femminismo però io credo che sia importante anche affermare che oggi il femminismo deve essere interseguito sezionale e che cioè tenga insieme le contraddizioni e il nesso tra sesso razza e classe e un femminismo anche trasnazionale perché le battaglie sono a livello globale e lo vediamo nel libro ne abbiamo contezza Laura Boldrini ci parla della Polonia ci parla del Me Too che è nato negli Stati Uniti e quindi lo sappiamo bene ma quello che emerge ancora più forte in questo libro è che siamo immersi in una cultura patriarcale e sessista e a volte ci chiediamo sono trascorsi tutti questi anni in cui abbiamo fatto tutte noi che siamo qui almeno ma tante battaglie no tante battaglie e abbiamo lavorato molto ma sembra che ci sia anzi a volte un arretramento sui diritti allora che cos'è che forse manca a mio avviso forse manca c'è bisogno di una condivisione politica c'è bisogno di più condivisione politica c'è tanto laboratorio politico tanta ricchezza tante risorse culturali e il discorso pubblico appunto è invece così povero la politica è sorda e mi spiace dirlo ma c'è una responsabilità molto forte di chi fa politica perché i partiti e Laura ne parla molto nel libro i partiti anche i partiti progressisti hanno una responsabilità enorme lo vediamo a livello nazionale lo vediamo a livello locale e il tema della rappresentanza delle donne le questioni che possono cambiare la vita non solo delle donne ma di tutta la società sono spesso relegate in fondo all'agenda politica di questo paese e riemergono solamente soltanto durante le campagne elettorali quando si scopre che molti uomini molti politici parlano di pari opportunità senza essersene mai occupati prima e questo è una carenza forte perché non è che non ci siano leggi nel nostro paese le leggi ci sono spesso non sono applicate ci sono leggi che si occupano di quasi tutti i temi delle donne ma appunto spesso non sono applicate non sono finanziate perché la politica ha sempre altre priorità e io faccio due esempi nel libro ce ne sono tantissimi l'elenco è veramente interminabile ma io ne faccio due locali di questa regione allora il piemonte aspetta dal 2016 cioè dall'anno in cui è stata varata una legge nazionale la 20 del 2016 sulla doppia preferenza nella legge elettorale regionale e il piemonte è fra le quattro regioni che non si è dotata ancora di questa opportunità perché io credo che sia un'opportunità sono passate ben due giunte di colore politico diverso quindi questo per dire che nessuno esente da difetti ma noi siamo ancora qua ad aspettarla un'altra un altro esempio è quello che successe a fine della scorsa legislatura la giunta regionale su proposta di emendamenti della allora consigliera regionale nadia conticelli e di marco grimaldi fece degli emendamenti alla perché la legge 194 fosse correttamente applicata nella nostra regione e perché si potesse accedere in modo gratuito alla contraccezione come altre regioni fanno dopo che a livello nazionale una donna progressista l'allora ministra della salute eliminò la gratuità della contraccezione questo anche sempre per dire la trasversalità ecco eh gli emendamenti sono passati eh questa noi molto contente perché suppressione anche delle associazioni fra cui se non ora quando che eh dette un impulso importante e grazie a questi due politici che si sono dati eh presi in carico questo eh la legge adesso non è finanziata quindi la contraccezione continua a non essere gratuita questi ho fatto questi due esempi solamente per far capire perché secondo me la politica non si occupa veramente in modo reale eh di questi temi se ne occupa parole ma ma poi quando nei fatti non se ne occupa e qui voglio sottolineare ancora una volta come il tema della democrazia paritaria rimanga un tema importante no avere donne nelle istituzioni nei luoghi dove si decide è assolutamente necessario l'abbiamo detto tante volte anche simbolicamente anche per le nostre per le future generazioni è così importante ma quali donne eh adesso ci saranno le elezioni ed è sarà un tema eh così eh è un tema di attualità no eh una non vale una a mio parere io eh io e molte altre qui ne siamo molto convinte il percorso che per esempio Laura ha fatto eh da convinta femminista ha fatto in questi anni sia come presidente della Camera sia come parlamentare eh ci fa capire che c'è modo e modo di fare politica e di rappresentare le donne e di rappresentare le donne e di rappresentare le donne e qui sia io che ci sono appunto molte amiche come dicevi di se non ora quando possiamo testimoniarlo possiamo testimoniare il lavoro continuo il confronto il dialogo l'interlocuzione che c'è stato in questi anni in questi tanti anni eh con Laura eh non sto a a elencare tutte le iniziative le audizioni eh le proposte di legge l'invito a tavoli di lavoro che ha fatto a noi e a tutte le associazioni sul territorio nazionale confrontandosi con esperte con volontari e con attiviste con chi insomma lavora su questi temi ne voglio ricordare una perché so che anche qui molte amiche lo ricordano come una giornata eccezionale che non dimenticheranno mai e che fu il 25 novembre del 2017 quella giornata montecitorio in cui eh molte di noi erano là eh ci non fu una giornata sola perché anche questo no eh non fu una cerimonia fu una costruzione di un percorso io venne a Roma molte volte perché insieme costruimmo quella giornata ecco questo per me è il modo di fare politica di una donna autenticamente femminista che eh che si occupa delle donne e e questo io è quello che vorrei quando scelgo una donna ma anche un uomo perché come abbiamo detto anche un uomo può essere femminista è quello che vorrei però quando scelgo un rappresentante della politica e noi da Laura devo dire ci sentiamo rappresentate questo libro è solo una conferma se mai ce ne fosse ancora bisogno eh del suo essere autenticamente femminista e quindi la ringrazio per questo grazie a te grazie Laura Nofri adesso tocca il compito a un uomo Jacopo Rosatelli che è per di più assessore alle pari opportunità quindi un ruolo che finalmente viene dato a un uomo mi piace molto questa cosa e vorrei passare la parola perché so che vorrei fare un saluto prima di intervistare Laura e volevo però fare un applauso a tutti gli uomini qui presenti perché non è vero che non ce ne sono non vi faccio alzare la mano alzare in piedi ma vi vedo non siete pochi non siete pochi la sala è piena e sono più donne ma tanti uomini prego Jacopo sì grazie ehm la prima cosa che ci tengo a dire è che io vorrei anche voglio dire formalmente ringraziare Laura Boldrini per il suo impegno per la sua traiettoria quella che ha compiuto sin qui e quella che compirà ancora perché ehm è stato un esempio di eh impegno come è stato già detto da da Laura Nofri e in una situazione molto difficile per lei anche sul piano personale eh perché la quantità di attacchi che ha subito per il coraggio con il quale si è esposta eh nel suo ruolo istituzionale in una battaglia di civiltà ecco una quantità di attacchi che forse poche altre persone avrebbero 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 retto e lei lo ha fatto con grande dignità e con grande fermezza e con grande eh spirito di di servizio repubblicano mi verrebbe da dire e per questo io davvero la la ringrazio perché resterà resta un esempio di come è stato detto anche adesso ehm si può onorare diciamo la funzione pubblica eh in in un periodo in cui noi abbiamo bisogno di ricordarci che cosa significa essere persone degne di ricoprire ruoli di rappresentanza istituzionale e qui mi fermo perché penso abbiate capito l'allusione che che ho fatto ehm non spetta a me dire se noi che in questo momento stiamo ricoprendo un ruolo nella nuova amministrazione lo siamo però penso che ehm persone che aspirano alla massima eh magistratura della Repubblica in questo momento non credo che passerebbero diciamo un esempio l'esame eh di dignità eh di dignità repubblicana e dignità costituzionale se misurata su sui valori di cui parla Laura Boldrini eh in questo libro eh ed è molto grave eh ed è molto grave che si possa eh anche solo eh ipotizzare eh che persone che hanno dato prova di una scarsissima considerazione del valore dell'uguaglianza tra uomini e donne nella loro funzione pubblica oggi possano essere prese in considerazione come possibili candidati o candidate ma qui evidente che si parla il maschile eh alla funzione di presidente della Repubblica non serve che sia non serve che sia io a dire che eh se non ora quando nasce proprio eh nasce proprio eh sulla base diciamo di una moto di ribellione morale e politico eh nei confronti di un una un abuso della posizione eh politica eh diciamo che 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 era sotto gli occhi di tutti e che ci voleva però il coraggio delle donne per per denunciare ehm lo dico e lo sottolineo e poi non mi voglio dilungare eh ma non sto dicendo che persone di diverso colore o di diverso orientamento politico non sarebbero eh legittimate perché qui non è questione di orientamento politico e culturale perché sarebbe troppo facile dire e sarebbe una caricatura dire che chi è di orientamento conservatore è di per sé irrispettoso del principio di uguaglianza invece chi è di orientamento progressista di per sé lo sia perché appunto non è così e uno dei meriti dei libri del libro di Laura Boldrini è proprio quello di evidenziare eh questo ehm ehm fatta questa diciamo forse lunga lunga premessa che altro non era che eh il ringraziamento per eh la testimonianza di 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 valore civile che Laura Boldrini in questi anni ha dato e che in qualche modo è anche condensata in questo libro eh ci tengo a sottolineare brevissimamente eh perché per me è importante raccomandare la lettura e come ha detto Laura Onofri l'acquisto eh il fatto di regalare questo libro eh a più persone possibili e agli uomini eh in particolare. perché Laura Boldrini eh giustamente eh giustamente a mio avviso dice che è la liberazione delle donne eh quando avviene eh è un processo che è anche di liberazione degli uomini di liberazione delle gabbie del patriarcato che gli uomini eh hanno costruito e nelle quali si ritrovano eh senza essere forse consapevoli di ritrovarsi in una gabbia perché l'esercizio del dominio e l'esercizio del potere è ovviamente qualcosa eh che porta vantaggio però è una gabbia. eh e ehm affermare come eh Laura Boldrini fa tra l'altro riprendendo parole anche di Enrico Berlinguera ad esempio che hai davvero il merito di 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 riprendere in una conferenza mh poco prima della sua scomparsa della del partito comunista della conferenza delle donne comuniste diceva liberando le donne libereranno tutta tutta l'umanità. e questo noi uomini dobbiamo eh capirlo dobbiamo sforzarci di capirlo che il processo di emancipazione delle donne di liberazione delle donne dal patriarcato e che eh diciamo il femminismo eh non sono movimenti contro di noi ma sono movimenti eh per la liberazione eh di tutte e di tutti e di tutte le identità eh e da questo punto di vista eh io dico grazie a Laura Boldrini per eh in questo libro scrivere del valore eh di quello che eh avrebbe potuto essere una legge importante di questa legislatura che avrebbe potuto qualificare questa legislatura e che invece eh non è stata. eh insomma mi riferisco evidentemente al disegno di legge Zan Laura Boldrini scrive quando questo libro va alle stampe non si sa ancora eh come finisce in Senato noi invece lo sappiamo come è andata a finire ebbene eh io ringrazio Laura Boldrini perché noi sappiamo che anche nel mondo del femminismo e nel mondo persino del movimento LGBT è stato eh dibattuto eh quanto fosse opportuno inserire eh il sessismo insieme all'abilismo insieme all'omofobia la misoginia tra i fattori da 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 contrastare insomma in un'unica legge e invece appunto Laura Boldrini secondo me con ottimi argomenti spiega in questo libro come la radice di tutte queste forme di eh di discriminazione e di odio sia la medesima che è quella del patriarcato in fondo assumere un'idea di normalità eh di norma eh che eh opprime eh tutto ciò che eh normale non è e questo è un uso diverso eh dell'espressione normale rispetto invece a quello che fa che fa Laura Boldrini nel 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 suo libro con questo eh ricorsivo eh affermare non è normale non è normale l'oppressione degli uomini eh nei confronti delle donne quindi eh il mio è appunto un un ringraziamento e un apprezzamento per questo libro ricchissimo anche di ehm di cose che si possono imparare anche eh storicamente eh perché c'è capitolo in cui si passa in rassegna eh la brevemente la vicenda dell'Italia repubblicana e di con quanto ritardo si siano affermati determinati diritti sino al nel 1981 con eh il matrimonio insomma riparatore eccetera cose molto 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 tardive eh si passa addirittura eh si si cita eh un proto femminista uomo eh repubblicano mazziniano che sostanzialmente prefirgorò la riforma del diritto di famiglia eh cento anni prima del 1975 e molto altro quindi anche un libro dal quale si impara molto si imparano molte cose sul piano sul piano storico e come veniva detto giustamente da Laura Nofri c'è uno sguardo eh su su sull'universo insomma del del nostro mondo sui movimenti al di fuori del nostro paese e questo è molto importante c'è un riferimento che io ho apprezzato al movimento delle donne polacche questa che è una delle grandi battaglie di questa di questa fase noi in questo dobbiamo sentirci europei ed europei quindi è davvero un grazie è davvero una un invito molto molto sentito a leggere questo libro farlo conoscere e e sono davvero onorato se mi posso permettere di essere qui in questa sede anche a rappresentare la la città di Torino spero degnamente so che su chi è uomo e ha il compito di fare l'assessore le pari opportunità giustamente grava eh un onere eh di dimostrare di essere all'altezza per la nostra città questa è la seconda volta consecutiva che accade eh io vengo con un percorso di attivismo LGBT che mi ha fatto incontrare eh il femminismo eh negli anni scorsi e spero di esserne stato positivamente contaminato ma non chiedo diciamo assegni in bianco eh chiedo di essere giudicato eh giustamente con l'adeguata severità eh alla fine quando insomma giudicati dovremmo dovremmo essere. Grazie davvero. Grazie. Benissimo. Noi abbiamo un tempo un po' contingentato anche se nessuno ci butterà fuori però so che molti di voi poi alla fine vorranno sia fare il firmacopo che vi ricordo che poi c'è un momento in cui eh Laura potrà firmare i libri se voi li comprate qui fuori e io ci terrei a lasciarvi spazio però dandovi microfoni credo che in sala ci siano per eventuali domande verso la fine quindi se volete poi partecipare alzate la mano e vi darò la parola e ovviamente chiedo a Laura Noffi e Jacopo Rosatelli di stare qui sul palco con noi perché se vogliono interlocuire con Laura e con tutti noi siamo ben contenti di proseguire il dialogo con voi. Laura io sono insomma tu sei la la passionaria che io ho conosciuto tanti anni fa ma ma sei eh che vieni dal mondo dei diritti eh da FAULO e NHCR poi hai fatto la presidente della Camera. Io quando ero la Camera con te mi ricordavo che già allora perché noi abbiamo fatto le equilinarie insieme perché abbiamo tu sei stata presidente nel periodo in cui si sono avuti due eh presidenti della Repubblica quindi hai seguito e quando c'è stata tutta quella battaglia perché già allora si parlava di una donna alquilinale non è la prima volta che se ne parla però sia Laura Noffi che Jacopo Rosatelli hanno accennato all'argomento e direi prima di entrare nel merito dei capitoli del libro il tema una donna alquilinale lo vorrei affrontare subito cioè mi sembra importante che tu dica la tua su questo argomento qua quindi ti passerei subito la parola. Sì grazie e buonasera a tutti e a tutte mi fa molto piacere vedere tante amiche tanti amici in questa sala e sono contenta di essere in questo luogo uno dei luoghi più belli di Torino che mi stanno più a cuore perché penso che sia un luogo dell'anima un luogo di civiltà quindi ringrazio il circolo per l'ospitalità. Il mio libro non poteva essere introdotto meglio da due relatori un relatore una relatrice che hanno detto le cose più importanti quindi io avrò molto poco da aggiungere Anna perché l'hanno detto loro e nel modo migliore. Dunque riguardo alla partita del Quirinale vorrei sì vorrei riprendere quello che diceva Jacopo Rosatelli prima il fatto solo di pensare che Berlusconi possa essere una figura che capace di rappresentare il paese a me sembra il modo per non entrare seriamente nel merito della vicenda Quirinale perché non mi sembra possibile perché è la sua biografia che lo dice è la sua storia e non solo quella giudiziaria ma è anche come ha sfidato le istituzioni negli anni in cui lui è stato a Palazzo Chigi come ha definito la magistratura il cancro della società il modo in cui girava il mondo a fare gaff contro Obama la signora Merkel la cancelliera Merkel ultimamente anche si è scagliato contro la moglie di Presidente Macron sempre con questa linea sessista che l'ho accompagnato negli anni quindi il nostro prestigio dico che abbiamo tanto faticato a tirarlo su verrebbe di nuovo rimesso completamente in discussione. Io mi ricordo che quando lavoravo nelle Nazioni Unite nelle agenzie delle Nazioni Unite 25 anni dunque lungo percorso una volta negli anni 90 mi trovai in Burkina Faso e l'ufficio non poteva mandarmi la macchina perché avevano pochi mezzi e io per andare in ufficio ho preso un taxi. Il tassista mi chiese ma lei di dov'è? E io dissi che ero italiana e lui si girò con un sorriso malizioso e mi disse bunga bunga allora eravamo in Burkina Faso voi capite bene che tutto ciò è veramente la sua fama lo precedeva ecco allora io penso che dobbiamo fare sul serio perché fino adesso sono state schermaglie io ho un identikit che ho fatto perché spesso mi chiedono no? e credo che la persona uomo donna che sia deve essere una persona autorevole deve essere una persona europeista deve essere una persona la cui attività politica è stata ispirata ai principi della Costituzione deve avere alle spalle un'esistenza specchiata quasi direi esemplare perché questo serve e deve essere antifascista come è la nostra Costituzione quindi se noi riusciremo a trovare una sintesi su una donna penso con queste caratteristiche sarebbe il massimo saremo tutte estremamente felice perché è evidente che avere una donna a capo dello Stato vuol dire anche avere insomma una figura che rappresenta anche il 51% della popolazione femminile che a volte viene dimenticato ma non una donna purché sia non una donna a ogni costo non una donna che dimentica di essere donna nel momento in cui detiene il potere non una donna che ripropone uno schema tradizionalista di società e di famiglia quella non mi andrebbe affatto bene scusatemi la franchezza ma quella non mi andrebbe affatto bene non so se ho risposto chiaramente alla tua domanda molto e ti ringrazio molto perché è il tema ricorrente sui media la vediamo proprio quasi una cantilena perché tutti chiedono una donna al potere qualsiasi sia la donna invece non è vero che le donne vogliono una donna qualsiasi non pur che sia deve rispondere a questi criteri è un falso mito il fatto che le donne vogliono una qualsiasi donna al potere perché poi tu l'hai spiegato benissimo deve essere una persona che ha tutte le caratteristiche giuste e che ci siano però pari opportunità per poter competere e essere presi in considerazione perché il problema poi invece è questo che alla fine le donne non vengono considerate volevo chiederti però ci sono perché mi sembra implausibile un po' di voci circolano su alcune donne candidate ci sono delle possibilità secondo te che questa cosa avvenga cioè tu sei ottimista o pessimista a questo giro? ma io penso che è giusto anche che ci siano gli appelli da parte delle donne della società appelli delle intellettuali delle donne delle associazioni perché questo deve far tenere a mente una cosa cioè che non si può più pensare di escludere a priori le donne come è stato fatto per molto tempo quindi gli appelli servono a ricordare che le donne non ci stanno più a questa esclusione a priori dopodiché io penso anche che questo Parlamento così come si è manifestato finora non sia stato in grado di valorizzare il capitale umano femminile troppe volte abbiamo visto quando si trattava di fare delle nomine del Parlamento che le donne venivano dimenticate troppe volte abbiamo visto che dovevamo ricorrere a delle rimostranze per riuscire a far anche ricordare al governo le cui forze politiche siedono appunto in Parlamento che quando si trattava di fare task force contro la pandemia c'erano anche le donne che erano le più esposte quindi di fronte a questo la mia conclusione è che purtroppo ancora oggi appunto non siamo in una condizione da poter dire che c'è quella sensibilità e quella lungimiranza necessarie per poter seriamente considerare una donna che abbia appunto quelle caratteristiche e che nell'essere presidente non rinuncerà mai al suo essere donna e dunque farà anche quelle battaglie necessarie al Paese per portarsi avanti hai scritto questo libro affrontando hai diviso 12 capitoli ogni capitolo è un tema e quindi tra l'altro vi dico che è un libro utilissimo perché tutte le sfaccettature dei problemi dei diritti e delle donne e dei problemi di parità di genere sono affrontati in questo libro separatamente ma in questi 12 capitoli qual è quello che ti ha appassionato di più? cioè qual è il tema che ti sta più a cuore? ma tutto si tiene e tutto si lega il libro intanto nasce appunto nel periodo della pandemia quando tutte le diseguaglianze sono esplose in maniera talmente evidente che non volerne prendere atto significava veramente rimuovere il problema quindi ho cominciato a mettere nero su bianco ed è venuta fuori una lista degli orrori e allora ho detto beh ma perché nessuno si scandalizza rispetto a tutto ciò perché continuavo a dire ma questo non è normale ma come si fa? ma questo non è normale era un continuo esclamare questa frase e allora ho deciso di riflettere su questo e di fare un libro in cui si mettevano in evidenza tutte le patologie del nostro sistema sociale tutte le patologie che vengono normalizzate giorno dopo giorno e dunque che ingiustizie, umiliazioni, situazioni altamente discriminatorie che vengono fatte passare come normali perché? perché si ripetono e quando una cosa si ripete alla fine si crede che deve andare così come il patriarcato, la legge del padre se la legge del padre è sempre stata l'unica legge che ha dettato le condizioni allora molte donne pensano è giusto che sia così dovrà pur continuare così se è sempre stato vuol dire che è giusto quindi bisogna rompere questo assetto bisogna far capire che dietro a questi tentativi di normalizzazione c'è la volontà di sminuire e controllare le donne con un unico obiettivo mantenere il potere nelle mani degli uomini non ce n'è un altro sminuire la donna farla sentire inadeguata tu non capisci ma stai zitta ma chi pensi di essere ma falla finita fai fare a me che io sono più capace quante volte ognuna di noi si è sentito dire questo da uomini che nulla sapevano quante volte l'uomo che sa meno di te ti deve fare la lezione su cose che tu conosci benissimo è un continuo allora di fronte a questo si può decidere di far finta di niente e abbozzare e allora si decide di soccombere di essere losers di perdere oppure si decide di dire no basta ah sì? e io non ci sto non è che assumo come dire l'aggressività come metro ma ti faccio presente la cosa eventualmente medio con te e se non sei disponibile andiamo allo scontro meglio perdere con uno scontro leale che neanche provare a alzare la testa quindi io ad esempio sto denunciando gli odiatori politici non i poveri cristi incapaci di magari capire che stanno facendo qualcosa di sbagliato ma coloro che sono al timone della macchina dell'odio chi è al timone se ne deve assumere responsabilità dopo che è terminato il mio mandato da presidente ho deciso che in uno stato di diritto chi rappresenta il paese non può abbozzare perché il messaggio è devastante è dire ai giovani guardate abbassate la testa di fronte ai violenti perché tanto non possiamo farci nulla no in uno stato di diritto i violenti devono rispondere delle loro responsabilità ho decine di processi in corso e qui abbiamo anche chi appunto come se non ora quando si è costituito con me parte civile e non finirò mai di ringraziare Laura Onofri e le amiche di se non ora quando per questo di fronte a un sindaco della Lega che un sindaco della Lega che si è è arrivato a scrivere un post dicendo mandiamo gli stupratori a casa della Boldrini così gli ritorna il sorriso un sindaco può pensare che lo stupro faccia tornare il sorriso allora lui chiaramente ma tanti altri viceministri e lo stesso Salvini perché io adesso fra qualche tempo a Milano inizia il processo perché non esiste al mondo che tu metti in piedi una macchina dell'odio cercando di rendere la vita delle avversarie politiche un inferno usando la misoginia e nulla accade nulla accade allora io sono felice che le associazioni invece hanno reagito e stanno reagendo con me e in altre circostanze vorrei che anche i partiti politici lo facessero vorrei vedere i partiti politici democratici costituirsi parte civile perché l'obiettivo di questa macchina dell'odio è di è di intimidire le donne e cacciarle dalla sfera pubblica e politica questa è una minaccia alla democrazia perché oggi tante colleghe si censurano perché hanno paura della gogna e non gli do torto non le sto giudicando ma questo altera la democrazia e di fronte a questo allora anche la politica che non usa questi strumenti si deve fare carico di non lasciare sole quelle donne o mi sbaglio quindi Laura quindi Anna io lo faccio per concludere in nome e per conto di tante donne che vivono la mia stessa condizione ma magari non hanno mezzi o non hanno neanche come dire non se la sentono e lo faccio per le nostre figlie che devono poter vivere in una sfera digitale accessibile senza dover accettare questo tipo di umiliazioni quindi è una sorta di class action che io faccio e spero ecco di poterla fare sempre insieme a molte altre perché le battaglie si vincono solo se sono collettive questo dobbiamo essere tutti molto su questo molto chiari non è perché una si porta avanti ma se una si porta avanti e tante altre e tanti altri seguono allora sì abbiamo anche una possibilità appunto di farcela contro l'odio e contro gli odiatori e contro chi è al timone di tutto questo ecco Laura la cosa che io oramai ho una certa età e mi sembra tutte queste battaglie di avere già fatte negli anni 70 quando ero una ragazza cioè io mi ricordo gli anni 70 facevamo l'autocoscienza facevamo i consultori abbiamo ottenuto il diritto all'aborto il diritto al divorzio si parlava di diritti delle donne il femminismo negli anni 70 è esploso in Italia e abbiamo fatto delle conquiste che mai avremmo pensato di perdere questo è un periodo di riflusso poi c'è stato il riflusso degli anni 80 ma qui è un riflusso del riflusso del riflusso cioè siamo tornati indietro com'è possibile che una società come l'Italia che in teoria è progredita nei decenni abbia invece questa grande resistenza che il patriarcato sia così resistente a tutto questo e non c'è nel libro c'è perché tu lo dici chiaramente le colpe anche di quelli che dovrebbero essere i punti cardini per far crescere la società c'è le colpe della politica da una parte e dei media dall'altra cioè le colpe pensando che tutte queste battaglie di diritti sono state fatte dalla sinistra le colpe dei partiti di sinistra che non sono stati capaci di essere femministi in tutti questi anni che alla fine hanno sostenuto i diritti ma quando c'era poi da essere femministi nel privato perché come ben sappiamo il privato è politico quindi anche singolarmente i vari politici tu racconti è pieno di aneddoti in questo libro pieno di aneddoti stupefacenti di personaggi che uno mai si immaginerebbe che si comportassero in maniera così maschilista ecco tutti questi racconti che fai sono per dire qui stiamo tornando indietro e chi dovrebbe essere al timone di questa grande battaglia non lo è quindi ci sono delle responsabilità politiche molto forti ma intanto cominciamo a dire che i diritti non sono mai per sempre non c'è certezza uno li conquista ci mette tanto tante battaglie ma poi basta niente che quei diritti vengono spazzati via e questo noi lo vediamo in tante parti del mondo non solo voglio dire dobbiamo preoccuparci di questo anche in Italia in Italia dobbiamo preoccuparci perché diritti e appunto ci sono leggi molto ben fatte come diceva Lavra Onofri la 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza che per esempio è una legge bella sulla carta cioè ben fatta equilibrata una legge ma che poi non si una legge che non si traduce di fatto spesso nell'esercizio di quel diritto perché in Italia gran parte dei medici sono obiettori e quindi quel diritto le donne non lo possono fruire quindi i diritti si logorano io proprio con una casa editrice di questa città Gruppo Abele sono uscita poco tempo fa con un libro dopo di questo sui diritti una strada aperta cioè diritti da difendere e diritti da conquistare perché secondo me abbiamo perso l'importanza dei diritti umani le politiche oggi non si basano più su questo io penso che il novecento sia stato il secolo del consolidamento dei diritti dopo la seconda guerra mondiale c'è stata la dichiarazione universale dei diritti umani le nostre costituzioni sono basate su quei valori e per decenni la difesa di quei valori erano identitarie delle forze democratiche d'accordo? e gli stati venivano giudicati in base a quei diritti questo è cambiato non è più così quei diritti non sono più considerati centrali quindi in quel libro appunto una strada aperta io faccio una analisi di come i diritti oggi sono in via di erosione e i diritti delle donne sono i primi a essere rimessi in discussione quando il vento come dire quel vento che non ci piace affatto quello conservatore avanza nelle aule parlamentari nelle aule dei tribunali nei bar quando quel vento soffia forte i diritti ne risentono indietreggiano e quindi non è per sempre allora siccome la destra sovranista le fosse oscurantiste a livello internazionale hanno fatto veramente un'organizzazione capillare su questo c'è l'International Congress of Families l'abbiamo visto a Verona come sono organizzati parliamo di lobby statunitense Tea Party Steve Bannon gli amici russi e con addentellati in tanti paesi io c'è qui Open Democracy con cui appunto collaboro e dicevamo parlavamo prima un avvento un aneddoto a Nairobi dove parlamentari di non mi ricordo quanti paesi eravamo 30 paesi mi pare riuniti a Nairobi per fare un incontro sui diritti riproduttivi al parlamento di Nairobi non c'è stata data più la sala eravamo ospiti nel momento in cui hanno capito che noi parlavamo di questo perché i gruppi Citizen Go e altri gruppi estremisti diciamo pro-life avevano fatto una campagna talmente forte a Nairobi in Kenya contro questa iniziativa che lo speaker si è sentito sotto pressione e ci ha negato ospitalità e la stessa cosa è avvenuta a Varzavia Europa Varzavia Polonia virgola Unione Europea la stessa identica cosa allora capite che non è per sempre e quindi a fronte di questo che cosa fa il fronte progressista questa è la domanda che io mi faccio perché la destra si organizza e fa questo quindi noi diciamo però le donne della destra vanno avanti certo vanno avanti propinano quel modello tradizionale di società non le tocca nessuno sono funzionali al mantenimento dello status quo va benissimo per questo dico al Quirinale una donna non pur che sia altra cosa è quando una donna vuole invece far saltare quei gangli rimettere in discussione quei meccanismi allora non deve passare allora campagne di odio quindi voglio dire che la cosa è molto più complicata quando vuoi portare avanti la società che quando la vuoi riportare indietro e quando la vuoi riportare avanti la sinistra dovrebbe organizzarsi un po' di più perché a mio avviso invece subisce molto la narrazione così feroce della destra si fa intimidire e dunque non assume posizioni avanzate ma gioca di rimessa e un giorno dopo l'altro a forza di giocare di rimessa arretra e quei diritti di quei diritti non rimane più nulla nulla rimane così non va bene Laura il capitolo sul lavoro io sono convinta che sia uno dei capitoli fondamentali perché poi e dall'economia e da tutto gira follow the money tutto gira intorno al fatto che se le donne sono indipendenti hanno il loro lavoro in tutti i paesi dove le donne lavorano c'è più sviluppo e c'è più cultura e c'è più uguaglianza quindi il problema del lavoro è fondamentale e il problema del lavoro tu lo colleghi anche al discorso delle cosiddette quaterosa volevo leggere un pezzettino se posso una pagina del tuo libro che secondo me lo riassume molto bene il concetto di dignità di chi lavora se declinato al femminile continua a essere una chimera non solo sul fronte delle molestie ma anche su quello della disparità di trattamento rispetto all'uomo e questo malgrado le donne italiane ottengano risultati più brillanti a scuola e all'università siano più preparate e sviluppino competenze con più facilità degli uomini caratteristiche che non sono evidentemente ritenute importanti dal momento che il quadro restituito dalle statistiche dice che il tasso femminile di occupazione e imprenditoria continua a rimanere tra i più bassi d'Europa e questo non è normale questo diciamo è la ricorrenza maiuscola che c'è nei vari capitoli però questo è un punto fondamentale secondo me e poi citi tantissimi altri dati che dimostrano che c'è ancora il soffitto di cristallo tutte cose di cui si parlava sempre negli anni 70 ancora qui stiamo a parlare del fatto che noi donne non riusciamo a far carriera come gli uomini che siamo pagate di meno cioè che le buste pagano cioè ci sono proprio disparità di trattamento palesi che ancora vengono tollerate in questo paese sì vengono tollerate perché di fatto il sistema se lo può permettere perché glielo lasciamo fare ma paga il sistema a un prezzo altissimo Banca Italia dice che per non appunto stimolare l'occupazione femminile ogni anno l'Italia perde sette punti potenziali di PIL va bene per non occupare le donne possiamo permettercelo oltre al fatto che eticamente è inaccettabile ma non possiamo neanche permettercelo economicamente quindi io penso che bisognerebbe adottare dal punto di vista legislativo delle misure radicali perché se noi continuiamo a fare un pezzettino per volta non c'è quell'impatto forte necessario per cambiare un assetto l'assetto si cambia con le manovre d'urto con un impatto deciso in Spagna che cosa hanno fatto per incrementare l'occupazione femminile hanno detto bene il problema è che le giovani le donne escono meglio dalle università con voti più alti vincono i concorsi ma poi c'è un problema nell'accesso al mercato del lavoro allora il problema qual è? La maternità bene allora noi inseriamo congedo di genitorialità egualitario quattro mesi per gli uomini quattro mesi per le donne e non si può fare a cambio cioè è obbligatorio per uomini e donne questo ha avuto un impatto positivo nell'occupazione questo vuol dire fare sul serio questo vuol dire mettere le questioni di genere tra le priorità politiche e considerarle come imprescindibili ma noi a Montecitorio dobbiamo lottare per arrivare a dieci giorni di congedo del padre il più basso d'Europa ed è sempre una lotta perché non c'è mai abbastanza denaro per investire in questo ambito nella legge di bilancio ultima siamo riusciti a renderlo strutturale ma la cosa ancora più triste che ho il dovere di dire in questa aula in questa sala è che anche quei dieci giorni spesso non vengono presi dagli uomini italiani e sapete perché? Perché ritengono di perdere non lo so reputazione nel prendere quei giorni quindi anche quei giorni spesso vengono disattesi quindi vedete il problema culturale che macigno che è invece di approfittare per familiarizzare col neonato per stare vicino per godere di questa gioia immensa per condividere le responsabilità invece di fare questo molti uomini giovani italiani decidono che invece sia meglio andare a lavorare perché se no magari lo prendono in giro lo considera un mammo ecco siamo ancora a questo livello siamo ancora a livello del lavoro di cura ed è legato sempre alle donne siamo ancora qui a parlare di questo è quasi insopportabile e noioso voglio dire io trovo quante donne qui ne sentono parlare oramai da decenni è vero però che siamo in Europa e le regole l'Europa è un po' tra direttive e direttive alla fine dovrebbe aiutare la cultura italiana a cambiare e a migliorare secondo te l'Europa ci aiuterà o su questo finché non siamo noi a cambiare il cambio culturale che è chiaro che il problema di fondo è quello chi lo porterà quando arriverà il cambio culturale Anna se è ottimista o pessimista il cambio culturale Anna lo deve fare ciascuna persona non c'è una delega su questo ambito non si può dire se ne occupa pinco pallo no non esiste la delega non funziona ogni persona deve fare la sua parte se si trova di fronte a una cosa che non gli va giù a una battuta pesante che non fa per niente ridere non deve ridere e deve stigmatizzare il fatto che quelle battute non le vuole più sentire e invece spesso spesso si ride per imbarazzo ma non c'è niente da ridere e non ti devi permettere di farlo un'altra volta e bisogna reagire anche se costa sacrificio a casa quando si dà per scontato che le faccende di casa devono ricadere sulla donna e magari io ti aiuto e no tu non mi aiuti tu le devi fare con me non è un favore che fai a me tu le devi fare perché è tua responsabilità non voglio che tu mi conceda la grazia di aiutarmi non si tratta di questo allora se noi cominciamo a dire no più volte una dopo l'altra alla fine le cose cambiano se noi cominciamo a come dire a rifiutare certi pregiudizi certi luoghi comuni le cose cambiano ma se noi lasciamo correre siamo complici della stasi se noi pensiamo che è un compito di qualcun altro siamo corresponsabili di immobilismo e gli uomini a loro che sono qui dentro stasera voglio dire voi dovete uomini che siete qui che amate le donne che sapete valorizzarle se siete qui che le rispettate se siete qui siate più presenti nella battaglia contro la violenza sulle donne fatene una vostra battaglia i violenti vanno stigmatizzati sono indegni tanto quanto i pedofili sono indegni tanto quanto i mafiosi tanto quanto i terroristi non voglio più vedere quella tolleranza strisciante per cui in fondo però lei era esasperante lei non dava tregua a dire un po' se l'è cercata ecco se anche gli uomini prendessero delle posizioni su questo forti nel lavoro nella società nei giornali e invece no nei giornali nei talk show vedi che i conduttori quando si parla di questo dice ma il problema del sessismo ah io non lo so ma non è un problema serio eh bisogna parlare con mia moglie con tua moglie ma perché mai dovrei parlare con tua moglie io voglio parlare con te il sessismo non è un problema di tua moglie cioè risposte che denotano come loro prendono le distanze dal tema per paura che poi gli possano dire che si occupano di cose come dire cosette cosucce cose da donne le cose da donne sono irrilevanti sono non interessanti non sono importanti e d'altra parte a Montecitorio lo vediamo adesso qualcosa sta cambiando ma per anni no 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne a parlare solo le donne ma la violenza sulle donne chi la mette in atto non la mette in atto gli uomini e non sono gli uomini che dovrebbero intervenire in aula quest'anno è stato quest'anno è avvenuto quest'anno è avvenuto ma non dovrebbero essere loro a sentirsi parse in causa ma perché noi ce la dobbiamo dire tra di noi questa roba qua non è la violenza degli uomini sulle donne e quindi dico gli uomini devono stare con noi in questa battaglia altrimenti che vuol dire se non stanno con noi che stanno dall'altra parte dalla parte dei violenti non si può stare in mezzo o si sta da una parte o si sta dall'altra e io penso che questo sia vivere una cittadinanza attiva prendere posizione stare da una parte o dall'altra quindi cara Anna alla tua domanda io rispondo così che non c'è delega si cambia solo se ciascuno e ciascuna prenderà la responsabilità di farlo Anna posso? certo Jacopo colgo il tuo invito a interloquire per dire una cosa molto breve io prima di fare l'assessore facevo l'insegnante e le parole di Laura Boldrini le trovo illuminanti ed è quello che penso che ciascuno anche professionalmente debba fare per esempio nella scuola c'è un problema e nel libro ne parla Laura Boldrini il canone degli autori della letteratura è un canone maschile e questo è un problema e questo è un problema culturale e forse questa può essere una delle cose e questo cosa significa? Significa che chi di noi fa l'insegnante ha una responsabilità ha la responsabilità di scegliere libri scritti da donne di presentare una cultura prodotta da donne ma non di nuovo donne tanto per ma donne che hanno scritto libri per esempio come Sibilla Leramo una donna che tu cita un libro straordinario e poi abbiamo Grazia De Ledda e poi abbiamo Matilde Serau tutte autrici che Laura Boldrini cita siamo al circolo dei lettori parliamo di un libro scritto da una donna ci sono delle scrittrici in sala che io apprezzo e saluto quindi questa è una responsabilità che il mondo diciamo culturale della scuola deve sentirsi e invece nel ruolo di amministratore qui di fianco a me c'è una persona che è stata in consiglio comunale ha fatto molto per la nostra città e ha anche ingaggiato questa battaglia non è normale che i nomi delle strade siano quasi bravo titolati a uomo bravo non è normale e quindi e quindi è una battaglia simbolica ma non è una battaglia simbolica è una battaglia sostanziale perché l'immaginario è sostanza costruisce sostanza costruisce realtà e quindi Lidia Poet prima avvocata ma noi abbiamo nella nostra città certo Giardino noi nella nostra città abbiamo dato i Natali a una delle prime magistrate che hanno vinto il primo concorso Graziana Calcagno che molte di voi sicuramente conoscevano che è stata una diciamo una luminare della giustizia minorile che è scomparsa qualche anno fa e che penso sarebbe giusto provare a ricordare con qualche e sono molte sono molte quindi e Bianca Guidetti Serra non voglio fare pubblicità a noi di questa amministrazione ma è un'amministrazione paritaria e io vi dico quello che ho nella mia responsabilità di assessore sentito proprio come diceva Laura Boldrini dobbiamo partire da noi questa è la lezione del femminismo mi è stato chiesto in una rivista di citare il nome di un torinese illustre nel quale io potessi riconoscermi vi confesso la prima risposta è stata un torinese d'adozione Antonio Gramsci ci ho ripensato ho ritelefonato e ho detto no Bianca Guidetti Serra perché ho sentito la responsabilità come uomo e come assessore le opportunità di fare lo sforzo e lo confesso per noi è uno sforzo di pensare a una donna e quindi Bianca Guidetti Serra è la persona che ho indicato come torinese alla quale è giusto anche io direi hai perfettamente ragione Laura è nella quotidianità che noi dobbiamo appunto cambiare la cultura ma dal quotidiano però anche le istituzioni devono aiutare a cambiare la cultura come diceva adesso Jacopo ci sono tantissimi modi un altro è quello degli stereotipi nei libri di testo noi abbiamo dei libri di testo che io ho guardato un libro di mia figlia che ha 36 anni è uguale da quel punto di vista non ci sono differenze abbiamo fatto una ricerca come se non ora quando nelle scuole di Torino siamo a un livello incredibile il linguaggio anche questo è una nostra battaglia che abbiamo fatto a Torino in regione Piemonte la RAI di Torino abbiamo è una battaglia che Laura ha fatto in prima persona ma che è importante perché se non si nominano le donne la cultura va avanti anche per anche in questo cioè se noi nominiamo una donna sappiamo che questa donna c'è c'è in determinati campi perché le abbiamo perché ora ci sono le avvocate le avvocate nell'ordine di Torino sono la maggioranza rispetto agli uomini e perché dobbiamo chiamare avvocato una donna ecco cioè quindi questo che voglio dire è esattamente è giusto partire da noi partire dalla quotidianità però è importante che le istituzioni si facciano bene non c'è dubbio Andrea Giorgis che è qui che saluto si ricorderà nella scorsa legislatura io a Montecitorio ho fatto la sala delle donne perché in tutto il palazzo di Montecitorio c'erano solo busti e dipinti di uomini ma è come se le donne non fossero mai esistite nelle istituzioni italiane dunque ho fatto una sala con i volti delle c'è ancora vero? c'è ancora? sì certo c'è ancora ma altre cose non ci sono in questo caso non hanno smantellato quindi ci sono le donne le prime costituenti e le 21 costituenti le prime sindache abbiamo dovuto fare una ricerca incredibile negli archivi nell'archivio di Stato nell'archivio della Camera del Viminale nessuno sapeva chi erano state le prime sindache del 46 mai fatto una ricerca le prime donne che erano diventate presidente la Camera ministra e presidente di regione e poi una parete con degli specchi perché non avevamo diciamo le foto in quanto nessuna donna aveva mai avuto l'onore di ricoprire quei ruoli sopra gli articoli della Costituzione il 51 e il 3 e poi accanto avevo scritto nessuna donna mai ha ricoperto questi ruoli la prima potresti essere tu e le ragazze andavano si specchiavano le gite quando si viene a Montecitorio e si facevano la foto a dire che era un modo di fare empowerment il linguaggio di genere entra alla Camera con me per 70 anni ma ma come è possibile nessuno aveva avuto questa bisogno di dire che il linguaggio negli atti parlamentari devono essere devono essere declinato anche al femminile quindi varcavamo la soglia di Montecitorio eravamo il deputato Laura Bianchi il ministro Giovanna Rossi il sottosegretario e negli atti parlamentari non c'è la traccia per fare questo è stata una battaglia durissima durissima non potete capire il dileggio l'irrisione in aula ogni volta che riprendevo un deputato succedeva appunto il giro della derisione fin tanto che ho adottato l'ironia allora ho detto vabbè ho mandato la lettera abbiamo fatto la circolare non serve nulla allora il leghista di turno che mi diceva grazie signor presidente quando io gli davo la parola parlava e poi lo ringraziavo e dicevo la ringrazio signora deputata e tutti scoppiavano a ridere dopo due tre volte quattro cinque forse questa cosa è cambiata adesso invece che succede che a questa al linguaggio ancora oggi Andrea lo sa il ministro è una donna il sottosegretario ma le donne però non reagiscono è questo il punto cioè mentre io mi arrabbiavo e ne facevo una questione di principio ma mi beccavo anche tutto quello che ne seguiva e non è facile è vero io vedo che adesso nessuno si rifiuta di essere chiamato al maschile delle donne che hanno ruoli cariche di governo o deputate che a volte vengono chiamate deputato anzi al contrario adesso abbiamo alcune di fratelli d'Italia che vogliono essere chiamate donne deputato al maschile la montaruli per dirne una quindi capite che si fa presto a ritornare indietro cioè uno si porta avanti afferma delle buone pratiche ma poi ritornare indietro è facilissimo è vero e lì succede anche con i media perché i giornali tendono a sbagliare tantissimo quasi apposta io credo che tanti colleghi quando scrivono presidentessa non possono sapere che non si dice e che si dice la presidente non la presidentessa esagerano apposta per rendere tutto grottesco puntano sul grottesco cioè nell'esagerare Giulia giornaliste ma è una battaglia ancora molto in salita io volevo segnalare a tutti quanti voi tra l'altro che stiamo arrivando ai termini per cui se volete fare domande e approfittare di questo momento siete benvenuti volevo dirvi che è una cosa molto bella che c'è nel libro in ogni capitolo c'è un decalogo sì è quasi di da scarico nel senso che è un libro quasi fatto per essere educativo e quindi aiuta tantissimo perché è un decalogo dove si riassumono in dieci punti le definizioni dei problemi quindi quando c'è il capitolo sul sessismo spiega in dieci punti che cos'è il sessismo perché chi non lo sapesse femminismo cos'è il femminismo patriarcato cos'è il patriarcato l'ultimo capitolo è sul rimuovere il femminismo dall'agenda politica non è normale che è di fatto l'assunto poi di tutti gli altri capitoli e questi dieci punti io li volevo leggere perché secondo me sono dieci punti che riassumono molto bene rimuovere il femminismo dall'agenda politica non è normale e che cos'è rimuovere il femminismo uno dare scarso peso alle questioni riguardanti la parità tra uomini e donne due non considerare le donne per le posizioni di vertice e relegarle sempre nelle seconde file tre ritenere roba da donne le disfunzioni del welfare e la bassissima occupazione femminile anziché un'emergenza nazionale quattro tenere il potere strenuamente in mano maschili cinque fare dichiarazioni di intenti sull'empowerment femminile ma non passare dalle parole ai fatti puntando sulle donne sei mettere in atto piccoli correttivi e misure una tantum per tacitare le proteste anziché un progetto radicale adeguatamente finanziato in grado di colmare il divario tra uomini e donne sette ribadire nei documenti la centralità delle donne e l'impegno a ridurre le disuguaglianze e poi non investire risorse per ottenere risultati otto essere riluttanti al conflitto e non lottare per ottenere gli spazi necessari per contare adattandosi ai sistemi di cooptazione gestiti dai capi nove ignorare quanto affermato da numerose ricerche ovvero che se le donne gestiscono la spesa pubblica tendono a spostare le risorse su tutela ambientale implementazione dei diritti sociali abbattimento delle disuguaglianze sanità e istruzione dieci avvallare la narrazione secondo cui per ottenere rispetto in ruoli apicali le donne debbano mostrarsi migliori dei colleghi maschi superqualificate o geniali secondo me questo veramente è è un riassunto utilissimo grazie Laura tra l'altro Laura Boldrini non ne parla perché lei il suo privato lo tiene privato però questo libro l'ha scritto un momento molto difficile della sua vita in cui era malata e credo che sia stato come dire un regalo per tutti noi quindi ti ringraziamo doppiamente sì grazie Anna grazie sì mi ha aiutato il libro perché doveva uscire doveva uscire in primavera poi io sono stata travolta da appunto una malattia che mi ha messo di fronte alla vulnerabilità alla mia debolezza alla fragilità tutte condizioni con cui non è stato facile fare i conti quando uno vive un'esistenza in prima linea sempre a fare battaglia invece esiste anche quella condizione e quindi mi sono dovuta fermare tutte le priorità sono cambiate ho subito un'operazione chirurgica molto invasiva però è andato tutto bene adesso sono tornata insomma alla vita di sempre dopo un paio di mesi ho cercato strenuamente di andare avanti e il libro mi ha aiutato a riprendere l'impegno di sempre grazie